eccoci qua ragazzi da cubicatura milano e ovviamente sempre da roberto mamma mia ragazzi non ho parole mamma mia cerchi audi rs6 conclusi con trasparente solvente extralucido mamma mia non so voi ma complimenti al cliente dell'audi rs6 già una macchina supersonica con un cerchio del genere mamma mia ragazzi eh sì non ho non ho più parole sono rimasto senza parole mamma mia veramente uno spettacolo eccolo qua in tutta la sua in tutto il suo splendore ragazzi sono abbaiato da questa da questa cubicatura in carbone reale nero veramente lo spettacolo andiamo a vedere ancora meglio belle e vabbè ciao ragazzi iscrivetevi al canale roberto gaudieri channel seguite anche su instagram ovviamente anche youtube e seguite la pagina facebook cubicatura milano water transfer printing ciao